Facoltà, prego. Ci siamo? Provi. Pronto? Sì. Grazie Presidente, signori del Governo, colleghi. Siamo oggi di fronte all'ennesima, ormai direi consueta, richiesta di fiducia del Governo nei confronti di questa Camera. Una richiesta di sfiducia, direi, tanto scontata quanto strumentale. Una strumentalità però, a mio modo di vedere, non volta tanto a ricercare una compattezza di questa maggioranza. Quello siete stati bravi e capaci a farlo benissimo con la spartizione di poltroni, l'abbiamo visto recentemente anche nella Affair Bonafede. Insomma, quando c'è da ricompattarvi trovate subito il modo meno nobile per riunirvi. Una fiducia strumentale in quanto evidentemente a trovare il modo di portare a casa un provvedimento che è nato male, è divenuto peggio, nonostante il lavoro in Commissione e che oggi siete costretti, insomma, così un po' in sordina, a cercare di portare a casa con una fiducia inevitabile. Lo dico perché nonostante ci sia stata un'opposizione più che responsabile, un'opposizione seria, un'opposizione che non ha ceduto un minuto a derive ostruzionistiche, a rivendicative, ha cercato solamente di mettere in fila delle proposte organiche, delle proposte serie, delle proposte che volgessero migliorare il provvedimento, nonostante, va detto, anche lo squallido teatrino offerto dalla sfacciata e oserei dire predatoria e bulimica atteggiamento della maggioranza nei confronti degli emendamenti. Io faccio sempre fatica a comprendere come una maggioranza che sostiene un governo faccia più emendamenti di un'opposizione. E' sempre un dubbio che a me suona strano quando ci accingiamo a discutere un provvedimento e appunto una maggioranza attacca, perché questo è il modo più evidente per definirlo, un provvedimento del proprio governo. Dico che ci chiedete una fiducia nei confronti di un provvedimento che il Premier Conte, nella consueta e celebrativa e vespertina conferenza stampa della sera, ha presentato come un bazooka. Alla faccia anche dei pacifisti della maggioranza. E che doveva essere celebrata con un orgoglio, con una rivendicazione politica di questa maggioranza in quest'Aula. E che invece oggi venite qui appunto quasi nascondendosi, guardate i numeri della presenza, con una fiducia appunto risicata e una fiducia anche in qualche modo assolutamente annunciata. Chiedete a questo Parlamento una fiducia, ma questo Parlamento in effetti non la rappresenta più la nazione che adesso vive invece al contrario una sfiducia. E' chiaro che questo Parlamento non rappresenta il comune sentire della nazione, non rappresenta quella grande platea di migliaia e migliaia di partite IVA, di imprenditori, di commercianti, di artigiani che non da ora, ricordo la relazione tecnica alla legge di bilancio, voi trattate come avidi nemici del popolo e che invece in questo momento avrebbero bisogno di essere incentivati per continuare a essere veramente il nervo produttivo dell'Italia. Chiedete la fiducia e lo chiede un Governo che, dico a lei Presidente, per non rivolgermi direttamente al collega Ungaro, che è un Governo che ha lasciato per intere settimane abbandonate interi territori della nostra nazione in preda alla pandemia e si contavano morti su morti. E oggi fare ancora allusioni, battute, contraposizioni nei confronti della Lombardia suona soprattutto se fatte da un partito che si chiama Italia Viva, che oggi grazie ai voti del centrodestra ha eletto il Presidente della Commissione d'inchiesta che noi qui aspettiamo in Regione Lombardia, ha eletto un Presidente d'Italia Viva che ci è dichiarata fiduciosa del Presidente Fontana, suona anquanto più strumentale e ancora più improponibile, Presidente. Ci chiedete una fiducia mentre... Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La nostra Italia lo vediamo con i nuovi debiti che chiedete agli italiani di fare e che chiedete che l'Italia faccia nei confronti dell'Europa, nell'incertezza delle condizioni che l'Europa poi ci porrà. Vediamo nuova disoccupazione, vediamo nuovi regali alle banche. Ogni vostro provvedimento ha un capitoletto che contempla qualche regalo e qualche favore alle banche. Lo vediamo con i rischi di nuove opportunità per la criminalità organizzata. tragica piaga della nostra nazione lo vediamo nel vostro rapporto con l'Europa. Nuove tentazioni di cedere alle esingue di queste consorterie europee, di un'Europa appunto che vuole mettere il pane sull'Italia, sui suoi asset strategici, sulla enorme patrimonialità privata che gli italiani hanno sempre saputo mettere da parte, col sudore, col lavoro, con la coscienza di bravi padri di famiglia, che non vogliono, non lo vogliono la svendita di questo patrimonio con una patrimoniale, non lo vogliono col prelievo forzoso, che voi sotto dettatura di Bruxelles e Francoforte fate già alleggiare nei corridoi di governo e nelle veline delle agenzie. Gli italiani sono più seri e più responsabili, come tentate di descriverli anche nei vostri provvedimenti. Lo dimostra il grande riscontro che ha avuto un titolo di Stato che in quattro giorni ha raccolto 22 miliardi di risparmio degli italiani. Ed è quello che sempre Fratelli d'Italia, sempre Giorgio Ammoni, ha cercato di spiegare. Se uno Stato serio si presenta seriamente ai propri cittadini con un buono, un titolo di Stato, un certificato, un titolo di Stato che in qualche modo rappresenta una garanzia per gli italiani, una scommessa per la ripartenza della nazione, gli italiani ci sono, ci sono sempre stati e ci saranno. E noi quindi questa fiducia non la concediamo. Sì, caro Governo, noi possiamo usare il termine concediamo, non il Presidente le consigliano nelle sue dirette e nelle sue scarne relazioni che fa al Parlamento. Noi non la concediamo. E anzi, temiamo che ogni nuovo provvedimento di questo Governo rappresenti una mina piazzata sotto le fondamenta dell'Italia. Pensiamo che quindi, parafrasando il Virgilio che citavo prima, possiamo dire che timeo conte et decretum ferenz. Quindi la nostra risposta alla vostra improbabile richiesta di fiducia è ancora a volta un no. Un no di attesa, di attesa che finalmente le urne, quelle elettorali, ci possano finalmente restituire un Governo che l'Italia merita. Grazie.